ciao buongiorno a tutti allora oggi vi parlo di questo fantastico misuratore di pressione digitale intanto vedete è una confezione bellissima è di una marca sicuramente affidabile la hers che in molti di voi conosceranno è da polso quindi affidabilissimo ed è l'ideale appunto per la misurazione quotidiana della pressione sanguigna quindi per tenere sotto controllo i parametri della vostra salute è importante soprattutto per chi ha questo tipo di problemi tra l'altro memorizza fino a 199 misurazioni quindi avrete sempre sotto controllo tutte le variazioni del vostra pressione è un apparecchio sicuramente affidabile utile perché quando si parla di press di salute non si scherza mai quindi è un'idea di Dixa24.com digitale quindi sicuro preciso fino nel più piccolo nella più piccola variazione di pressione vi aiuterà sicuramente a controllarla e stare meglio vi arriva con spese di spedizione gratuite quindi anche questo è importante e sicuramente un apparecchio un prodotto che non deve mancare in casa vostra non lasciatevelo scappare